Ha avuto l'appoggio. La Harris ha avuto l'appoggio di un'altra parte del suo partito. Trump ha avuto l'appoggio di un'altra parte del suo partito. Che significa? Commento. Nel piano mentale e quindi in una maggiore realtà, significa che le forme pensiero che sostengono la Harris e Trump sono nutrite da una opinione pubblica più vasta. Da sempre la vita sociale obbedisce a queste regole superiori.